Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi faccio questo velocissimo video per annunciarvi una promozione veramente veramente molto interessante e fine esaurimento scorte, come ora a breve appunto vi spiegherò, su Coriolis, che vi ricordo essere un gioco di ruolo sci-fi futuristico ambientato nello spazio veramente spettacolare della Modifius, edizione originale della Freeligan, e in questa edizione italiana che vedete qui davanti a cura di Weird Edizioni, che ancora una volta colgo l'occasione per salutare e ringraziare di cuore per tutto il manuale fornito. E Coriolis è un gioco stupendo che ho già trattato sul canale, se vi ricordate tempo addietro circa un annetto fa, perché è un'ambientazione nato non a caso prima del GDR di Alien, con questa ambientazione che ricorda molto da vicino un horror molto... cioè un horror spaziale cupo che può tirare fuori film appunto come Alien, Event Horizon, punto di non ritorno, ma anche capolavori appunto come i videogiochi e la saga di Alien, o come Dead Space, perché abbiamo questa ambientazione molto, molto cupa, molto questo spazio giustamente molto scuro, con queste creature astrali, aliene, che s'annidano nell'oscurità dello spazio, che hanno molto spesso poteri anche magici, sono cose veramente fuori dalla concezione umana, e vive dentro questo gioco il concetto principale, come appunto in Alien, che è l'esplorazione spaziale, perché storia di base di Coriolis vuole che dalla Terra è partita un'arca verso questo sistema, mentre quest'arca partiva e gli ci volevano tipo 100 anni per arrivare a destinazione, con tutti a bordo, addormentati, per sonno, generazioni magari, di che è rimasto sveglio che si sono succedute, mentre quest'arca stava andando in direzione di questo nuovo sistema scoperto, hanno trovato vicino alla Terra dei portali, che non si sa chi ce l'ha messo e chi li ha creati, un po' come Interstellar, o volendo anche The Expanse, infatti prende molto secondo me da The Expanse. Gli umani nel corso di questi 100 anni sono riusciti a precedere chi è partito con l'arca per questa missione da pionieri in un nuovo sistema solare per andarla a scoprire prima di loro tramite questi portali, e quindi quando l'arca è arrivata non hanno trovato qualcosa di incolonizzato, ma colonizzato quasi al 100%, addirittura con delle stazioni spaziali e quant'altro. Quindi è molto interessante vedere chi è arrivato prima di loro e chi è arrivato dopo, ed ormai era soltanto una leggenda perché quest'arca qui dopo magari 100 anni si dava anche per dispersa. E l'ambientazione è molto interessante, ricorda molto da Bicino Alien per quanto qui c'è molto più la cultura del credo, della religione, che in questo gioco si chiamano le icone, quindi c'è molto il fatto, a parte socio-politico fra le varie fazioni e tutto quanto, ma il culto religioso è veramente molto importante e si dà molta importanza alle religioni, un po' come mi viene ad esempio in Warhammer 40.000 la figura dell'imperatore o delle varie credenze della Dettus Mechanicus ad esempio. E poi l'ambientazione è molto arabeggiante, fondamentalmente perché anche nel tipo di modo di vestire, nei nomi dei personaggi, è una specie di, tra virgolette l'ho già sentito nominare così, mille e una notte nello spazio. Ed è veramente spettacolare, bellissimo. Poi come avete visto nel corso del video vi ho fatto vedere anche come è fatto, il manuale all'interno è bello scuro, ma anche le illustrazioni sono veramente da tavola e dei capolavori. Faccio questo veloce video per farvi presente questa promozione di Weird. Acquistando per i prossimi 20 acquisti, quindi come ho detto all'inizio del video è a numero chiuso, per i prossimi 20 acquisti, se userete il codice che vedete in sovraimpressione, ma ve lo lascio per comodità anche come secondo link in descrizione, al momento dell'acquisto userete quel codice promozionale, pagherete sempre la stessa cifra per il manuale, ma invece di avere il manuale base, la cover standard, potrete avere la cover Icon, come state vedendo, o la cover Darkness. Quindi addirittura pagando lo stesso prezzo vi portate a casa non il manuale standard, ma l'edizione limitata. Vi potete portare a casa l'edizione Darkness, che è veramente stupenda con la nuova cover, altri colori e tutto quanto, in tiratura limitata e da collezione perché costerebbe molti più soldi, al prezzo del manuale di base, però soltanto per i prossimi 20 acquisti, usando appunto il codice che avete visto poc'anzi. Io ringrazio Weird Edizioni per avermi offerto questa copia del manuale base, più tutti gli altri manuali d'espansione, che sono veramente spettacolari, e ragazzi, se cercate un gioco dall'ambientazione molto, ve l'ho detta, rameggiante, futuristica, sci-fi, oscura, che fonde un po' tutto, prende a pieni mani The Expanse da una parte, dall'altra parte Dead Space, ci butta un po' di Warhammer e soprattutto molto di Alien, per me Coriolis è veramente perfetto per tutti i palati. Ciao ragazzi, alla prossima!